presentazione ufficiale della pallacanestro Roseto presidente Ernesto Ciafardoni possiamo dire primo contatto vero primo vero contatto con i tifosi con gran parte dei tifosi e primo approccio con chi ovviamente sarà vicino alla squadra quest'anno sì è una serata bella piacevole deve essere sorridente ci presentiamo a tutta la città ai tifosi a tutta la città di Roseto eh ci siamo già visti a fine luglio e oggi invece ufficialmente avviene questa presentazione siamo contenti carichi e poi stare sul mare e fare una presentazione eh del genere non è neanche difficile presidente è entusiasmo che si sta ricreando possiamo dire dopo eh nonostante la finale persa però dopo la bella stagione dell'anno passato sì vero e per questo bisogna ringraziare il pubblico di Roseto perché ci hanno applaudito nella vittoria e nella sconfitta si sono riavvicinati perché penso che comunque il nostro è un discorso molto chiaro semplice fatto di grandi verità eh la gente ha bisogno delle delle verità è stata allestita una squadra sulla carta chiaramente eh state molto forte e ci aspettiamo grandi cose. Presidente ovviamente dalla settimana prossima si inizierà a fare sul serio con la Supercoppa contro Teramo. Ma infatti diamo già il primo appuntamento di sabato 10 settembre io adesso non so l'orario di preciso probabilmente le 20 e 30 ci sarà il primo derby il primo turno di Supercoppa italiana Roseto Teramo e già lì vogliamo tanti tifosi.